Il bilancio della questura di Catania è positivo, i numeri parlano. È stato un anno foriero di grandi risultati perché grazie a una strategia costruita in prefettura e tradotta da un punto di vista tecnico-operativo abbiamo introdotto dei dispositivi presidiari interforce in parecchie aree sensibili in cui abbiamo ritenuto suddividere Catania per offrire alla cittadinanza una maggiore visibilità dello Stato sul territorio. Il risultato è stato di una elevazione sicura, di una percezione di sicurezza da parte del cittadino e una maggiore legalità rispetto, sovvertendo il trend che invece io avevo notato all'atto del mio insediamento. Dio Catania c'è una percezione maggiore di sicurezza e la presenza anche dal punto di vista visivo delle forze dell'ordine presenti sul territorio? Questo mi fa molto piacere che lei lo dica perché riscontra quella che è la nostra idea e soprattutto riscontra l'efficacia del modello operativo che noi abbiamo voluto inserire.